Sì, signor giudice. Ha abitato qui molto tempo? La signora Bertolt? Oh, la signora Bertolt e la sua famiglia hanno vissuto qui per molte generazioni, signor giudice. Grazie. Signor giudice, era sceso a cercare qualcosa? Ah, già, beh, volevo soltanto prepararmi un sandwich. Oh, glielo prepariamo noi, le prepariamo tutto quello che vuole. No, no, non fa niente, me lo facevo sempre da me a casa. Che cosa preferisce? C'è del prosciutto, formaggio e salsicce di fegato. Beh, preferisco il formaggio. Subito. Lei è molto gentile. Signora Albertstadt, com'era la vita sotto il nazionalsocialismo? Com'era la vita? Sì, insomma, giorno per giorno. Sapete, conosco molta gente come voi al mio paese. Voi siete brava gente, ne sono convinto. Come, come vi trovavate a vivere sotto Hitler? Noi non facevamo politica e signor Albertstadt e io non facciamo politica. Ein Glasfjord, die Milde, bitte. Sì, lo so, ma lo bevete pure vedere quello che succedeva intorno a voi. E ne succedevano di cose, signor Albertstadt. C'erano le adunate. Hitler e Goebbels venivano qui ogni anno. Cosa ne pensavate? Noi non andavamo mai alle adunate, mai. Ma non vi sto mica facendo il processo. Io sono solo, sono solo curioso, vorrei sapere. Ecco il suo sandwich. Grazie. Non c'è di che. Grazie. Per esempio, c'era un posto che si chiamava Dacao, non molti chilometri da qui. Avete mai saputo cosa succedeva là? Noi non ne sapevamo niente. Proprio niente. Come può chiederci se noi ne sapevamo qualcosa? Scusate. Signor Giudice, noi siamo gente modesta. Abbiamo perso un figlio in guerra e una figlia nei bombardamenti. Durante la guerra siamo quasi morti di fame. E' stato terribile per noi. Lo credo bene. Hitler, Hitler ha fatto qualcosa di buono. Non dico che non abbia fatto qualcosa di buono. Ha fatto le autostrade. Ha dato lavoro a tanta gente. Noi non diciamo che non abbia fatto qualcosa di buono. Ma le altre cose. Le cose che dicono che ha fatto agli ebrei, agli altri, noi non ne sapevamo niente. Pochissimi tedeschi lo sapevano. E anche sapendolo che potevamo fare. Ma la signora Alba è stata detto che non lo sapevate. E la signora Bertolt, come ha reagito a tutto questo? La signora Bertolt è una gran dama, signor Giudice. Sono certo. E com'era il marito? Era nell'esercito. Che gli è successo? E' stato uno degli imputati nel caso Malmedy. Il generale Bertolt. Carl Bertolt. E' stato il giustiziato, signor Giudice. Sì, questo lo so. Nel dopo...